E qualità della giocata anche a livello di scelta, tattica, secondo me di livello molto interessante in un ambiente come l'Inter con un sistema per quanto riguarda il reparto d'attacco come quello adottato da Simone Inzaghi, Raspadori, occhio concorrenza da morire, però nel momento in cui viene chiamato in causa in certe partite secondo me potrà far vedere le sue qualità, vi faccio vedere anche questa azione, lo vedete lì? Sembra rinnovarsi l'interesse, tra l'altro già manifestato durante la sessione di mercato estiva dell'Inter nei confronti di Raspadori, il giocatore nero-verde, Sponda Sassuolo, non parliamo del Pordenone, sicuramente sta avendo una stagione particolare, sta mettendo in mostra le sue qualità, però dal punto di vista del rendimento anche a livello puramente numerico, qualcosina insomma sta venendo meno. Vediamo un po' se è un tipo di giocatore adatto che potrà crescere nell'ambiente nero-azzurro e vediamo un po' anche tatticamente quello che potrebbe rappresentare, ma prima di iniziare come sempre ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanella per le notifiche, lasciare un like al video che ovviamente aiuta sempre, passate i suoi miscouting per quanto riguarda tutti gli altri social, il sito internet per i corsi di match analysis e scouting, se volete diventare osservatori, match analyst, le società stanno tornando ad assumere in maniera importante, trovate tutti i link qui in basso in descrizione, Lo stesso per quanto riguarda Instagram, Facebook, Twitter, Twitch, chi più ne ha più ne metta, gruppo Telegram, tifosi di ogni squadra, ma, ma, ma. Parliamo di Raspadori, un giovane sicuramente promettente, lo conosciamo un po' tutti, lo abbiamo potuto apprezzare sia nel Sassuolo durante soprattutto le ultime due stagioni, anche il nazionale ha fatto vedere le sue qualità quando chiamato in causa e nell'ambiente nero-azzurro, insomma, è un profilo che posso assicurarvi che piace e non poco. Però per iniziare con l'analisi passiamo, come sempre, a qualche dato che ci fornisce Instat, partner ufficiale dei nostri corsi. Qui vediamo innanzitutto un confronto rispetto alle statistiche di questa stagione fino ad oggi con quella che è stata la stagione dell'anno scorso. Allora, innanzitutto, ad oggi ha giocato 16 partite in totale tra club e nazionale, segnando però solo due gol, uno in nazionale, uno in club fino ad oggi. L'anno scorso invece ha messo a segno nove gol, un bottino di tutto rispetto, assist uno quest'anno, uno l'anno scorso. Mentre le medie per partita, secondo me, ci fanno capire delle robe interessanti per quanto riguarda l'apporto tecnico ma soprattutto tattico del ragazzo. Allora, i passaggi chiave più o meno si attestano sullo stesso valore, i tiri quest'anno sta tirando in media di più, però il minor numero di partite contribuisce a far salire questa statistica. Però, per quanto riguarda i cross, quest'anno sta crossando di più, la posizione più defilata adottata soprattutto durante le ultime partite sta influendo, però i 0,38 cross effettuati in media per partita fanno un po' crollare quella che è la percentuale di efficienza sul 33%. Quindi dal punto di vista tattico e anche tecnico, soprattutto, possiamo anche capire che forse la posizione esterna non gli va totalmente a genio. Per quanto riguarda i duelli sta duellando di più rispetto all'anno scorso, 10 in media per partita con un 35% di effettività. Duelli aerei 1,5 per partita, solo il 13% di successo per quanto riguarda questo tipo di giocata. Dribbling 2,2 per partita con una precisione pari al 51%, sicuramente un fondamentale che ci fa capire che Raspadori è un giocatore tecnico che palla al piede sa sicuramente il fatto suo, sta dribblando di più anche in questo caso. La posizione è leggermente differente rispetto a quella che è stata l'anno scorso, aiuta a mettersi in mostra da questo punto di vista, quindi una statistica sicuramente positiva. I contrasti per il momento li tralasciamo, data la natura offensiva del giocatore, quindi giocatore che sicuramente dal punto di vista tecnico sa il fatto suo, ma che sta apportando sicuramente poco per quanto riguarda la realizzazione, la fornitura di assist. Vediamo un po', è un giocatore che potrebbe aiutare quindi l'Inter, ma soprattutto ha del potenziale, ragazzi, faccio l'osservatore, sto qui apposta. Però ovviamente il mio soccorso e il nostro soccorso arriva alla nostra amatissima lavagna tattica, innanzitutto vi faccio vedere quella che è stata spesso la sua mattonella durante la stagione in corso, soprattutto, ripeto, durante le ultime partite. Lì sicuramente ha messo in mostra qualità molto interessanti per quanto riguarda il dribbling, riesce a saltare l'uomo, abbiamo visto un'efficienza del 51%, efficienza sicuramente positiva, però nel momento in cui deve crossare, concludere l'azione e quindi con un passaggio, qualcosina viene meno in questa azione, lo vediamo lì, sicuramente saltare l'uomo, creare superiorità, ottenere il fondo del campo, ma quando arriva il momento del passaggio, qualcosina viene meno. Vi faccio vedere l'azione, lo vedete lì, raccogliere questa palla, bello lo spunto, ottiene il fondo, passaggio però sicuramente da rivedere. All'Inter, ovviamente, secondo me, non andrà ad occupare eventualmente quella mattonella, lo vedrei più lì, nella zona centrale, a giocare come seconda punta o come punta centrale, ma ripeto, l'opzione che io prediligo per quanto riguarda Raspadori è quella della punta a supporto, perché nella zona che vediamo evidenziata in questa slide, sicuramente Raspadori ha dimostrato di sapere il fatto suo. Occhio, in questo caso l'azione parte con lui, comunque schierato sull'auto di sinistra, che si accentra palla al piede, però quando trova spazio lì, tra le linee, in zona centrale, sicuramente per me ha del potenziale che ancora può migliorare ed è sicuramente tutto da esprimere. Passaggio in verticale, tempismo e qualità della giocata, anche a livello di scelta, tattica, secondo me, di livello molto interessante. In un ambiente come l'Inter, con un sistema per quanto riguarda il reparto d'attacco, come quello adottato da Simone Inzaghi, Raspadori, occhio, concorrenza da morire, però nel momento in cui viene chiamato in causa, in certe partite, secondo me potrà far vedere le sue qualità. Vi faccio vedere anche questa azione, lo vedete lì, appena accentrato, tocco centrale, assist sfornato per il suo compagno di squadra. Quindi, secondo me, occhio, perché inoltre è un giocatore, è una punta a cui piace venire incontro, creare gioco per poi attaccare la profondità. Non è una riete, non è una punta che rimane lì, in zona centrale, tutta la vita, e lo ha dimostrato in quella partita ormai quasi famosissima per quanto riguarda la, seppur breve, carriera di Raspadori, partita contro il Milan. Qui entra, a partita in corso, doppietta, vittoria del Sassuolo, ma, secondo me, uno dei due gol mette in mostra tutte le caratteristiche appena elencate e caratteristiche che fanno ben sperare per quanto riguarda il potenziale di Raspadori. Qui viene incontro, lo vedete lì, sulla zona tre quarti, apre bene, qualità nel controllo, nel passaggio, quindi apertura corretta verso l'esterno, si ripropone in avanti, dà profondità alla squadra e conclude in gol. L'azione è questa, lo vedete lì, smistare questa palla sull'esterno, attaccare la profondità, ricevere il passaggio di ritorno e quindi trasformare l'azione in gol. Secondo me, ripeto, il suo habitat naturale è quello nel sistema Inter. Inter, occhio che potrebbe migliorare perché non è un giocatore arrivato, bello fatto e finito, ed esprimersi quando gli viene data la possibilità. Altro esempio, l'unico gol segnato in campionato quest'anno è arrivato da un'altra situazione, lui che viene incontro, passaggio che lo trova lì sulla tre quarti, lui bravo nel dribbling, lo abbiamo visto prima anche a livello statistico, si incunia lì nella zona centrale del campo, palla alla sinistra del portiere e gol del Sassuolo, questa azione è un'altra azione che va a supportare quelle che sono state le osservazioni evidenziate durante questa analisi. E ragazzi, concludendo, potrebbe essere l'acquisto del futuro dell'Inter, un attaccante dal potenziale interessante? Secondo me, sicuramente sì. Occhio, ripeto, dovrà sgomitare per trovare un minutaggio, insomma, necessario per poter crescere, però sotto la guida di Simone Inzaghi e nel sistema adottato dall'Inter, secondo me potrebbe dire assolutissimamente la sua. Detto questo, sono super curioso, come sempre, a riconoscere la vostra opinione e i commenti qui in basso sono a vostra completa disposizione. L'analisi di oggi finisce qui, come sempre spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un like e condividetelo se vi va. È stato un piacere enorme passare questi minuti con voi, un salutone ed al prossimo appuntamento. Ragazzi ho salutato, con due mani così. Mi sono pure dimenticato che alle 14 andiamo in live su Twitch, vabbè, speriamo che, insomma, viene qualcuno.